Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo la fiducia nei leader per SVG del 5 di giugno del 2021. Draghi è al primo posto, guadagna due punti percentuali, arriva al 56%, Meloni stabile al 44%, segue Zaia in crescita di un punto al 41%, dopo c'è Conte che perde un punto ed è al 39%, dopo abbiamo Bonaccini costante al 38%, Salvini costante al 33%, Letta cresce di un punto ed è al 33% con Salvini, Berlusconi costante al 28%, poi abbiamo Ficco costante al 27%, Zingaretti cresce di un punto e va al 27%, Speranza cresce di un punto e va al 27%, Totti cresce di due punti e va al 27%, Calenda perde un punto e scende al 21%, Di Maio costante al 19%, Renzi costante al 13%, Crimi rimane anche lui al 10%. Grazie a tutti quanti e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.